Un brand per valorizzare l'offerta turistica di tutto il litorale della Toscana da Massacarrara alla Maremma e lanciarla sui mercati internazionali. È Costa di Toscana il nuovo marchio pensato per promuovere il territorio, costruendo un'identità capace di integrare l'offerta mare con le ricchezze e le possibilità offerte a chi decide di fare le vacanze sulle spiagge della Toscana, dal turismo sportivo ai borghi. Come Commissione Costa abbiamo intercettato quasi 2.000 cittadini della Toscana e il 75% di loro ci ha detto che dovevamo, per rilanciare l'economia costiera, lavorare molto di più sul turismo e quasi il 50% delle persone che hanno risposto questo ci hanno chiesto di lavorare per un'integrazione del turismo sull'area costiera. I dati che ci arrivano da altre ricerche ci dicono che solamente il 10% dei turisti che arrivano nel centro della Toscana poi si muovono verso la costa, a parte l'isola d'Elba che è un caso a sé stante. Allora il lavoro che abbiamo messo in campo insieme all'assessorato, ringrazio per questo l'assessore Cioffo per la grande attenzione e disponibilità, è stato quello di provare a lanciare una proposta politica integrata. Oggi è solo l'avvio di un percorso di ascolto che porterà alla costruzione del brand Costa di Toscana. Lo faremo anche coinvolgendo i più giovani, i ragazzi, chiederemo a loro, alle scuole di provare a definire con un contest quale sarà il logo di questo brand Costa di Toscana. L'obiettivo del piano di rilancio della costa è anche destagionalizzare il turismo che quest'estate ha segnato una ripresa positiva cercando di portare più viaggiatori internazionali al mare in Toscana anche fuori stagione promuovendo ad esempio l'itinerario cicloturistici o i cammini per chi preferisce un soggiorno slow o ancora l'offerta wedding per chi sogna di sposarsi in riva al mare, un programma ambizioso per rilanciare l'economia di un territorio molto legato al turismo. La costa soffre per più aspetti, per delle criticità che devono trovare una risposta in termini infrastrutturali, che devono trovare una risposta nel mondo del lavoro su grandi aree penso a Carrara, a Levorno o a Piombino. Il turismo però è quel collante che può, se valorizzato, restituire dignità, dare opportunità. Con Toscana Promozione Turistica programmiamo e oggi raccontiamo delle azioni che vedranno in pochi mesi la costruzione di un progetto articolato, complesso, ma che tende a fare della costa toscana un brand, se possibile, ancora più unico, più competitivo, più immaginifico e sappia raccontare delle opportunità che forse oggi non sono appartamentalmente valorizzate e che invece la costa ha portata di mano. L'offerta del turismo esperienziale, il rapporto con l'entroterra, i borghi a ridosso della costa e poi tutte le attività sportive che il mare tradizionalmente offre e mette a disposizione.